Una continuità ritrovata dopo sei anni. Gianluca Musacci è sicuramente l'uomo del derby tra Messina e Catania. Giocare per dimostrare che il Catania si è sbagliato a cedermi, ha detto in settimana il mediano del Messina. 26 presenze in circa sei mesi non gli capitavano davvero dai tempi di Empoli, dove Musacci aveva ben altre prospettive ed una carriera lanciata tra i palcoscenici più importanti del nostro calcio. Poi Parma, Spezia, Padova, Frosinone, Vercelli e Catania prima di approdare quest'estate al Messina con un contratto in scadenza mai rinnovato con gli etnei. Regista carismatico, playmaker davanti alla difesa, condotti, divisione del gioco, non sempre riscontrabili in Lega Pro. Musacci è diventato per le sue caratteristiche di leadership subito un elemento importante per Lucarelli che ha riposto in lui anche la fiducia di rappresentare lo spogliatoio dandogli la fascia da capitano. E da buon timoniere Musacci non è saltato giù dalla nave quando le acque erano tanto torbide quasi da non farla rovesciare. No, da buon capitano è stato al suo posto aspettando che la tempesta si placasse per guidare più forti di prima. Voglia di battere il nemico Catania dunque che lo stregò lo scorso anno per organizzazione e strutture mai viste nel calcio italiano tanto da creare rimpianti per lui che l'ultimo gol ha segnato proprio con la maglia rossa-azzurra contro il Catanzaro ormai un anno fa. Grazie. 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 Grazie.